L'abbiamo accennato in apertura e continua l'esodo dei pazienti della Casa della Divina Providenza. Oggi è l'ultimo giorno stabilito dal giudice per la chiusura dell'ospizio e alcuni ospiti sono stati trasferiti a Casa Serena. Ce ne parla nel servizio Emanuele Floris. Procede lo sgombero degli ospiti della Casa della Divina Providenza. Stamattina altre due persone sono andate via verso Casa Serena e un'altra in ospedale. Intanto ci si attiva per allungare i tempi del trasferimento. Un'istanza giudice del Tribunale fallimentare affinché potesse accordare una proroga dei termini per la chiusura della Divina Providenza. Chiaramente la situazione è alquanto critica perché comunque solamente la metà degli ospiti sono stati sistemati. In questa istanza abbiamo anche rappresentato al giudice fallimentare che ci sono delle situazioni come alcuni ospiti che devono essere inseriti all'interno dell'RSA. Ma purtroppo non ci sono posti né nel distretto di Sassari né in quello regionale. Oltretutto i parenti non hanno i soldi per portare i propri cari in strutture da oltre 2.000 euro dirette. Il curatore ha fissato una data per lo sgombero dei locali. Ovviamente ci stiamo impegnando però come avete potuto vedere ci sono comunque delle situazioni, ripeto, drammatiche. E insieme alla situazione critica degli ospiti c'è quella dei lavoratori e delle lavoratrici che aspettano a breve il licenziamento dopo il fallimento della struttura, senza avere al momento altre prospettive. Grazie.